ciao a tutti oggi andiamo a scoprire una nuova risorsa open di media library online la biblioteca digitale della rete bibliotecaria bresciana e cremonese non è una risorsa libro come biblioteca può far sempre pensare e invece una risorsa importantissima soprattutto per questo futuro estremamente incerto che ci aspetta andiamo a vederla partendo dal vostro motore di ricerca digitate mlol brescia cliccate sul risultato ottenuto vi trovate in questa pagina dovete inserire username e password che sono le stesse di opac oppure contattate la vostra biblioteca per averle dopo il login vi trovate quindi su questa pagina noi andiamo sempre a destra a cercare le risorse open che sono caratterizzate dal colore arancione quello che vedremo oggi è una delle risorse di e-learning cioè di apprendimento appunto online clicchiamo su vedi tutti e diciamo le prime risposte sono proprio di questo sito molto interessante che si chiama wiskool che raccoglie diverse materie diciamo vediamo subito l'inglese la letteratura le scienze e così via però volevo proprio farvi vedere tutti i contenuti che ha andiamo al sito ok guardiamo per esempio come è fatto questo sul sistema solare è un corso a tutti gli effetti che contiene già divisi 18 lezioni sono fatti da in questo caso testi scritti in italiano e ogni tre testi c'è un esercizio una verifica da fare quindi molto bello ci sono anche dei video ok ecco da qui potete vedere in pratica tutte le tutte le altre categorie che wiskool tratta internet informatica proviamo per esempio a guardare abbiamo linux image editing programmazione web design blog in social media arduino sicurezza informatica un sacco di cose estremamente di attualità ma abbiamo anche l'attualità l'economia e il business anche marketing analisi economica gestione di presa anche se uno volesse farsi solo magari un'infarinatura di queste conoscenze potrebbe farlo assolutamente in modo gratuito e ricordo queste risorse non spariranno alla fine del della pandemia non sono risorse che sono state date gratuitamente in questo periodo ma sono sempre disponibili e poi troviamo tutte delle lezioni di filosofia storia letteratura scienze lingue e musica che possono servire appunto agli studenti e che tra l'altro sono diverse dalle cose che si trovano solitamente online è una risorsa che secondo me può servire sia agli adulti che ragazzi diciamo da le scuole superiori in su quindi auguro buono studio a tutti e alla prossima grazie